Ciao ragazzi, benvenuti all'outplay di oggi. Vi faccio vedere questo bel groove fondamentalmente costruito sulla scala di Re diminuito. Infatti parto con il Re al tasto 5, poi vado a prendere il Fa tasto 3, corda di Re, ritorno sul Re e concludo sul La bemolle che cade sul Sol. Ok? Se io parto con il dito 3 riesco tutto a diteggiarlo a mano ferma, quindi è anche un ottimo esercizio per esercitare un dito, un tasto. Sulla seconda battuta cambia soltanto il ritmo. Anzichè fermarsi sul Sol va a finire sul Re, Fa, La bemolle, Sol, Fa. Ok? Mentre nel primo era... Qua avevo un doppio Re per partire, uno in levare e il secondo era in battere. Il terzo è uguale al primo. E poi concludiamo con la triade diminuita di Re, però presa all'ottava sopra. Tasto 12, Re. Tasto 10, corda di Sol, Fa. E tasto 13, La bemolle. Quindi l'ultima battuta fa... Se volete fate sentire anche la strisciata. Benissimo! Provateci, fatemi sapere se vi piace, mettete un like, condividete. Grazie a tutti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, Carlo! Ciao, Carlo!